Il secondo punto c'è un tema di occupazione, di posti di lavoro, di creazione di ricchezza. Ho visto in platea l'onorevole Maria Chiara Carrozza che su questi temi è particolarmente sensibile anche per il suo passato e presente accademico. Noi sappiamo che internet costruisce una rivoluzione. Il mondo della manifattura 4.0, il mondo dell'industria 4.0 provocherà un cambiamento radicale. Lo sta già provocando, è già negli atti. Ora noi siamo felici dei dati di oggi, avete visto i dati che ci sono sul lavoro, abbiamo finalmente segnali importanti di crescita dell'occupazione e questa è anche una bella dimostrazione che il Jobs Act funziona. Più posti di lavoro, meno disoccupati, più posti di lavoro a tempo indeterminato. Però se ragioniamo da qui a dieci anni, molti settori cambieranno, molti settori saranno completamente travolti dalle nuove tecnologie. E questo però aprirà degli spazi nuovi a un artigiano che attraverso l'innovazione digitale potrà vendere i propri prodotti nel mondo, ma anche il modo con il quale la fabbrica stessa cambierà le regole del gioco, come l'industria tradizionale cambierà le regole del gioco.